In questo numero, al Neuromed di Pozzilli fa ripuntati sull'epilessia, i medici fiscali più certificati di malattia e meno controlli in Italia, l'urologo, sfintere artificiale contro l'incontinenza maschile. E ancora, sifilide e HIV vanno a braccetto. Nuovo sistema di pulizia abbatte infezioni ospedaliere. Il vero o falso di questa settimana parla di chirurgia plastica dopo un cancro al seno. E per concludere, le news scelte per voi dalla redazione. Alessandro è grande, Dante, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Napoleone Bonaparte, Beethoven sono solo alcuni dei grandi della storia malati di epilessia, una patologia neurologica dovuta sia ad una predisposizione genetica sia a lesioni cerebrali. Nel mondo colpisce 65 milioni di persone, 6 milioni in Europa, in Italia 500 mila, dove si contano 30 mila nuovi casi l'anno. Si manifesta con crisi di vario tipo entro i 12 anni nel 70% dei casi, con conseguenze negative sullo sviluppo psicomotorio e ricadute sul piano sociale. Di epilessia si è parlata all'IRCS Neuromed di Pozzilli il 29 e 30 novembre, in occasione del convegno dal titolo è in forma. L'epilessia si può manifestare a qualsiasi età, tanto nei bambini, quanto nell'adulto, anche nell'anziano. I picchi di incidenza maggiore sono in età pediatrica e nell'età più avanzata. Nel neonato esistono delle forme che hanno magari una causa metabolica, che sono una mancanza di una vitamina, che possono essere precocemente affrontate e quindi evitando le conseguenze che poi si portano all'età adulta. Una malattia tenuta ancora nascosta per motivi psicologici e sociali? Sì, ma sempre meno. Il pregiudizio ce n'è ancora. In passato veniva considerata come una malattia dovuta alla possessione demoniaca. Per fortuna tutte le azioni che sono fatte dalle società scientifiche, dagli operatori sul campo, volte a sfatare il pregiudizio, cominciano a dare i frutti. Quando è necessario ricorrere alla chirurgia? Esistono dei casi che nonostante molteplici terapie con farmaci antiepilettici non rispondono alle medicine. In questo caso bisogna individuare il punto della corteccia cerebrale che produce le crisi e questo si fa con degli studi sofisticati in modo da poterlo rimuovere chirurgicamente. La febbre alta nei bambini può essere un fattore scatenante? Sì, può essere un fattore scatenante in generale. Esistono delle convulsioni che vengono con la febbre che nella maggior parte dei casi sono dei fenomeni benigni che scompaiono in età scolare, entro il sesto anno di età. Esistono anche delle forme genetiche in cui la febbre è un fattore scatenante e sono anche forme più severe. A livello mondiale più di 43 milioni di uomini soffrono di incontinenza urinaria. In Europa più del 16% degli uomini e delle donne, over 40, manifesta sintomi di vescica iperattiva per un totale di 25 milioni di persone. Per gli uomini con incontinenza urinaria grave però oggi c'è una soluzione chirurgica definitiva, l'impianto di uno sfintere urinario artificiale. Il nuovo intervento è stato presentato al recente congresso della SIU. Ogni qualvolta c'è un danno significativo dello sfintere, del meccanismo sfinterico. Lo sfintere artificiale costituisce l'opzione di scelta, è lo standard di trattamento in base a tutte le linee guida urologiche ed è una chirurgia che richiede l'inserzione dei tre elementi dello sfintere artificiale che sono una cuffia che viene messa a livello dell'uretra, bulbare o membranosa, che è quella che assicurerà poi la contenzione, quindi assicurerà il collabimento dell'ume uretrale per ottenere la continenza, un serbatoio che viene messo nell'addome e una pompetta di controllo che viene messa in una delle due borse scrotali. È un sistema idraulico connesso da connettori che mettono in connessione tra di loro, la cuffia, il serbatoio e la pompetta di controllo. In situazione normale la cuffia è costantemente chiusa e quindi permette la continenza tra una minzione e l'altra. Quando il paziente ha il desiderio minzionale e decide volontariamente di andare a urinare può attraverso la pompetta, pompettandola tre o quattro volte, può svuotare la cuffia attraverso un trasferimento di liquido dalla cuffia al serbatoio e ci sono poi tre minuti di tempo per svuotare la vescica. Nella stragrande maggioranza dei casi il risultato dello sfintere artificiale è formidabile, nel senso che trasforma il paziente da una vita miserevole ad una vita sociale pressoché perfetta, al massimo con la perdita di piccole gocce che non richiedono nessuna protezione o richiedono soltanto un salvaslip e sicuramente la gratitudine dei pazienti che sono sottoposti a uno sfintere artificiale è facilmente leggibile nei loro occhi e nella loro vita quando vengono al controllo ambulatoriale. Aumento importante della certificazione di malattia in Italia nel 2015, mentre diminuiscono i controlli. Resta poi il lunedì, il giorno nero della settimana, quello in cui ci si ammala di più. Lo sottolinea l'Associazione Nazionale Medici di Medicina Fiscale, con alla mano le recenti statistiche dell'Inps relative allo scorso anno. I dati dimostrano che nel 2015 sono stati trasmessi 12,1 milioni di certificati medici per il settore privato e 6,3 milioni per la pubblica amministrazione, con un aumento rispetto al 2014 del 4,3% per la pubblica amministrazione e del 4,9% per il settore privato. E i controlli? Dal 15-20% dei controlli sui certificati pervenuti nel 2014 si è passati ad un 3-4% nel 2015. A fronte dell'incremento delle certificazioni, il budget del 2015 e del 2016 per le visite di controllo da parte dei medici fiscali è stato infatti ridotto all'osso, nota l'ANFEI. I 50,6 milioni di euro di prima del 2013 sono stati ridotti ad appena 13,8 milioni di euro, tanto da rendere in risorio il numero dei controlli su tutto il territorio italiano. In pratica restano i controlli richiesti dai datori di lavoro al loro carico. A nulla, sembra, siano servite le tante interrogazioni parlamentari e i vari ordini del giorno di Camera e Senato, che hanno ripetutamente dimostrato come la spesa per la medicina fiscale Inps non solo è praticamente in pareggio, ma si può considerare una delle voci attive dell'istituto, sostengono i medici fiscali, in considerazione dei vantaggi procurati dai controlli. È sempre più comune trovare persone colpite dalla sifilide, malattia a trasmissione sessuale che sta riemergendo negli ultimi anni, ma anche dall'infezione da HIV, virus nell'occhio del ciclone della ricerca da oltre 30 anni, quando si inizia a studiarlo per la comparsa dei primi casi di AIDS. Un batterio e un virus strettamente correlati, ma perché? Naturalmente la prima è una caratteristica comune in termini epidemiologici, sia l'HIV che la sifilide si trasmettono attraverso le stesse modalità e quindi attraverso i comportamenti sessuali. L'altra cosa importante è che contrarre la sifilide probabilmente dà una maggiore suscettibilità in termini immunologici a contrarre anche l'infezione d'HIV perché essendo anche una patologia ulcerativa, le lesioni che può determinare, soprattutto a carico delle zone genitali esposte, possono fare da porta d'entrata anche per altre infezioni e anche per il virus HIV. Certamente oggi uno dei problemi che abbiamo in tutto il mondo occidentale, anche alla luce del fatto che oggi l'infezione d'HIV è una patologia sotto il profilo clinico molto ben controllata per l'introduzione dei farmaci antiritrovirali molto efficaci che assicurano una qualità della vita anche ai pazienti paragonabile a quella che avevano prima dell'infezione. È anche vero che le malattie a trasmissione sessuale riguardano anche la popolazione seropositiva e quindi il rischio di trasmissione anche da paziente seropositivo della sifilide aumenta se questo la incontra. E come si può interrompere la sinergia tra questi due agenti infettivi? Naturalmente l'educazione comportamentale, l'attenzione ai partner sessuali, la diminuzione della frequenza dei rapporti, l'uso costante ed efficace del preservativo sono le strategie comportamentali naturalmente più importanti. Noi da clinici naturalmente e da persone che lavorano all'interno delle strutture sanitarie dobbiamo anche migliorare la nostra capacità però di fare diagnosi precoce e questo vale per la sifilide di cui abbiamo parlato ma sicuramente oggi vale anche per l'infezione d'HIV. Durante il ricovero in ospedale circa il 10% dei pazienti contrae un'infezione. In terapia intensiva si può arrivare al 15%. In molti casi i responsabili sono batteri multiresistenti. Sulla base di una ricerca scientifica svolta dal Centro Studi Inquinamenti Ambientali ad Alta Sterilità dell'Università di Ferrara è stato sviluppato un nuovo sistema di pulizia, il PCHS, capace di garantire un'igiene stabile negli ambienti, riducendo di oltre il 60% le infezioni ospedaliere. Del nuovo metodo si è parlato a Firenze all'undicesima edizione del Forum Risk Management in Sanità. Abbiamo messo a punto questi sistemi di analisi molecolare grazie a cui riusciamo ad effettuare un'analisi di oltre 80 diverse resistenze sul campione raccolto dalle superfici ospedaliere. Grazie a questo è stato possibile evidenziare che con questo sistema basato su detergenti ecosostenibili con l'aggiunta di probiotici non si selezionano affatto resistenze, non compaiono nuove resistenze, ma anzi si ha un calo generale di quasi 100 volte rispetto a quello che si ritrova sulle superfici che sono trattate con sistemi di sanificazione tradizionale a base di disinfettanti o a base di prodotti di derivati del cloro. Un risultato che apre al raggiungimento di un obiettivo ulteriore. Controllando la qualità e le caratteristiche del campo microbiologico in termini di contaminazione batterica e fungina è possibile, secondo i dati di letteratura, controllare anche e diminuire il numero e la tipologia e modificare la tipologia degli eventi infettivi che sono a carico dei pazienti. L'introduzione del PCHS, acronimo di Probiotic Cleaning Agent System, si deve alla società Coppoma di Ferrara. La ricerca scientifica in ambito biologico ci ha aperto degli orizzonti straordinari, sono in grado di contrastare anche le grandi problematiche che oggi il mondo occidentale in modo particolare, ma anche oltre, sta incontrando per contrastare le antibiotico resistenze che di per sé rappresentano uno dei problemi più importanti che la medicina e l'igiene sta incontrando da anni a questa parte. È vero che sono molte le donne colpite dal tumore del seno? Sì, una donna su otto, vero. Su un tumore del seno l'intervento è chirurgico, è solo demolitivo? L'intervento può essere parzialmente demolitivo, questa si chiama chirurgia conservativa del seno perché una parte del seno rimane, oppure totale e allora la mastectomia. Il seno viene ricostruito direttamente in sala operatoria dopo la rimozione del tumore? Sì, è sempre possibile fare la ricostruzione immediata, ovvero al termine dell'intervento demolitivo effettuare subito, nello stesso sala operatoria, la ricostruzione. I seni ricostruiti dopo un tumore non vengono mai uguali? Non sono uguali neanche in natura, io ricordo che un detto dice che i seni sono sorelle e non gemelle. È vero che la convalescenza dopo la ricostruzione del seno non è dolorosa? È dolorosa ma ci sono le pompe per il dolore oggi, quindi no, può non essere dolorosa. Dopo l'asportazione totale del seno e la ricostruzione, il tumore non può più tornare? Beh, nulla è così tassativo, bisogna ricordare che le donne devono continuare a sottoporsi ai controlli anche dopo l'intervento al seno. Sono circa 60.000 i professionisti della sanità di origine straniera che lavorano in Italia. Nel 2016 si contano 18.000 medici, 37.000 infermieri, 3.500 fisioterapisti, 2.000 farmacisti e 200 psicologi. A riportare le ultime statistiche è l'Associazione dei medici di origine straniera in Italia, in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. In apertura del congresso, il dolore neuropatico periferico, diagnosi differenziale e il trattamento a Roma. Italia è in ritardo rispetto ai più avanzati paesi europei nel formare o reclutare ricercatori impegnati nell'ideazione di nuovi prodotti, processi, metodi e in generale di nuove conoscenze. Nella penisola i lavoratori con compiti di ricerca e innovazione misurati in termini di unità full-time equivalent sono circa 120.000, un dato molto inferiore a quello dei principali paesi europei e corrispondente allo 0,5% degli occupati totali. Lo rivela l'ultimo rapporto del Censis. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata!